Buongiorno, buongiorno e bentornati. Su TCS, Telecosta Smeralda e il Magazine, già ieri abbiamo raccontato un po' delle giornate del patrimonio, ovvero quelle giornate che cristallizzano la bellezza, non solo italiana ma anche e soprattutto quella sarda. Oggi ci rientriamo entrando, scusate il gioco di parole, quasi voluto, per cercare di capire esattamente cosa possono rappresentare anche per una regione come la nostra a vocazione turistica. Anche la Sardegna apre le proprie porte, i propri siti, i propri parchi archeologici e i propri musei in occasione delle giornate europee del patrimonio 2024. In programma quest'anno, nel fine settimana di sabato 28 e domenica 29 settembre, con il titolo Patrimonio in Cammino. Si tratta della più estesa e partecipata manifestazione culturale d'Europa promossa dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea coordinata per l'Italia dal Ministro della Cultura. Le giornate sono un invito a riflettere sul valore del patrimonio culturale in relazione a cammini, vie di comunicazione, connessioni e reti che oggi o in passato hanno reso possibili relazioni e scambi tra i popoli e le culture e contribuito alla formazione della nostra identità. La Sardegna, anche quest'anno, propone una fitta agenda di iniziative con oltre 80 progetti che vedranno protagonisti musei, comuni, archivi, biblioteche, fondazioni, associazioni culturali e cooperative che hanno aderito con entusiasmo e partecipazione attiva alla manifestazione coordinata dall'Ufficio Stampa e Comunicazione della Direzione Regionale Musei Nazionali Sardegna. Da nord a sud tutta l'isola è coinvolta nell'evento con due giornate che permetteranno a visitatori e turisti di conoscere il ricco patrimonio culturale della Sardegna attraverso visite guidate, degustazioni, approfondimenti scientifici, musica, laboratori didattici, fino alle tecnologie innovative e immersive della realtà virtuale. Durante il fine settimana del 28 e 29 settembre i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura ospiteranno diverse attività e nella giornata di sabato è prevista anche un'apertura serale con il biglietto d'ingresso al costo di un euro per condividere luoghi ed eventi da non perdere. Solo per fare qualche esempio, a Cagliari ci sarà occasione per scoprire la Basilica di San Saturnino, uno dei siti culturali più importanti della città. A Sassari si potranno invece visitare il Museo archeologico ed etnografico Sanna e la Pinacoteca Nazionale, mentre a Porto Torres il Museo archeologico nazionale Antiquarium Turritano. Le giornate europee del patrimonio segnano da calendario la chiusura delle attività estive, ma costituiscono anche un momento importante per presentare il programma delle attività invernali e soprattutto una grande occasione per riscoprire i patrimoni culturali della Sardegna. Insomma una scommessa con un titolo semplice, la sfida sul turismo culturale, vale a dire un nostro capitale umano e di bellezza. Il turismo culturale è un'occasione di sviluppo e di conoscenza della bellezza la nostra, quella che negli ultimi anni, anche grazie a tutta una serie di progetti, iniziative, manifestazioni e intuizioni legate al territorio, si sta rivelando una scelta vincente. Lo sanno bene le istituzioni, da una parte l'assessorato al turismo in testa, che attraverso una serie di iniziative, appunto, scommette e vince, punta le sue fish su un tavolo forse nuovo? No, quello della cultura, da esportare, da valorizzare e proporre come una strada di promozione del territorio, dei luoghi. Pensate solo all'ultima presentazione in ordine di tempo, il romanico in Sardegna, è l'enorme capitale di storia e tradizione da proporre per quattro settimane, perché no, ai turisti. E pensate a un altro tesoro, e che tesoro, naturale e identitario, il monte d'Accoddi, complesso megalitico, luogo fantastico e ideale, storico-culturale legato a tutta una serie di modelli e modalità narrative, di paesaggio e di architettura. Laico da una parte e religioso dall'altro, aspetti e momenti di riflessione di tutto quello che riguarda la Sardegna, isola dalle mille sfumature, che come in una macchina del tempo ci riporta indietro nella storia metaneolitico, età del rame e un territorio denso di risorse, come quello relativo alla nurra flumenargia. Questi elementi denotano l'importanza del turismo culturale, la bontà di partecipare in prima a persone da protagonista alle giornate europee del patrimonio, European Heritage Days, la più estese e partecipata manifestazione culturale d'Europa con il coordinamento e il sigillo del Ministero della Cultura. Il tema di quest'anno è patrimonio in cammino e sui cammini e sul turismo lento e religioso si può aprire un altro file strettamente connesso alle prime due parole dell'inizio di questa storia, turismo culturale. Luoghi è un lavoro corale dove la Direzione Regionale Musei della Sardegna, sempre in prima linea, sceglie il Monte da Coddi come senso del racconto al megalitismo in Sardegna. Una visita guidata e tematica attraverso la quale gli appassionati o i curiosi e perché no i turisti conosceranno i segreti del sito e delle comunità preistoriche, quella filosofica dello stare pure in cammino. Le nostre eccellenze agroalimentari, ma perché no anche tutto il settore vitivinicolo piace, piace anche l'export e piace anche questo servizio che stiamo per mandarvi in onda. E' una Sardegna che si fa conoscere all'estero anche attraverso i suoi prodotti e le sue esportazioni. Il primo semestre del 2024, per quanto riguarda l'export sardo, è stato positivo registrando un più 18,8% rispetto allo stesso periodo del 2023, come riporta il dossier del centro studi della CNA Sardegna. I numeri positivi sono dovuti anche al confronto con il secondo trimestre del 2023, il peggiore degli ultimi 11 trimestri, che da una parte spiega un risultato così brillante e dall'altra testimonia un netto cambio di marcia dell'export isolano in questo 2024. A crescere è anche il valore complessivo dei prodotti sardi venduti all'estero, con un guadagno di oltre 600 milioni di euro rispetto allo scorso anno, per un totale di 3,8 miliardi di euro. Se anche il secondo semestre del 2024 dovesse confermare le tendenze positive, il bilancio potrebbe avvicinare gli 8 miliardi di euro, mentre il record assoluto dell'export sardo rimarrebbe sempre quello di 8,9 miliardi registrato nel 2022. Tuttavia, la crescita, sottolineano Luigi Tommasi e Francesco Porcu, rispettivamente presidente e segretario regionale della CNA Sardegna, è dovuta in gran parte all'aumento dei prezzi. Nel manifatturiero si conferma l'ottimo stato di salute del comparto agroalimentare, con una crescita superiore al 10%. I prodotti lattiero caseari continuano a farla da padrone, confermando la buona tenuta della domanda internazionale di formaggi sardi e derivati. In flessione di contro il settore pastaio e dei prodotti da forno, un comparto che veniva da un 2023 poco brillante. In ripresa l'industria vinicola regionale, dopo il calo delle vendite in valore di vini e bevande dello scorso anno. Prosegue invece il boom dell'olio, che continua a guadagnarsi rapidamente uno spazio importante nel bilancio dell'export sardo agroalimentare. Il 2023 dell'olio infatti si era chiuso con un brillante più 12% che ha portato il suo valore venduto all'estero a superare i 6,7 milioni di euro. Una cifra che alla fine dell'anno potrebbe essere persino superiore con le esportazioni dell'olio sardo, che sono aumentate in un semestre di oltre il 50%. Un dato che corrisponde a oltre 1,5 milioni di euro in più di vendite rispetto alla prima parte del 2023. Come un foglietton, gli ultimi due servizi sono dedicati alle arti. Cominciamo dal teatro. Presentati nei giorni scorsi le rassegne autunnali del 2024 di Sardegna Teatro. I due progetti fondamentali si chiamano rispettivamente Prototipi, che apre una finestra verso l'ibridazione con la sperimentazione di nuovi formati scenici e di interazione, e Trattini, che nasce e si rivolge al pubblico del futuro, quello dell'infanzia. Oggi presentiamo quella che è la nostra attività autunnale. Come teatro, siamo un teatro riconosciuto dal Ministero come centro più importante di produzione dello spettacolo al vivo in Sardegna. Noi non lavoriamo per stagioni, lavoriamo un po' per periodi, quasi un po' come la moda. Anzi, la moda fa autunno-inverno, noi facciamo autunno. E presentiamo due progetti nuovi, uno in realtà è la seconda edizione, uno è una prima edizione, che però abbiamo capito essere un po' la sintesi di questi dieci anni di percorso che abbiamo fatto da quando il teatro è stato riconosciuto, appunto come TRIK, questa sigla, Teatro di Rilevante Interesse Culturale. E quindi ha una dimensione regionale. Abbiamo progetti a Sassari, questa volta con la collaborazione importante dell'Accademia di Belle Arti e il Festival Amatita di Alghero, a Nuoro dove la collaborazione con l'Elisso e la cooperativa Lariso, a Paoli Latino dove la collaborazione è forte con il Festival della Poesia di Senegra, del paese vicino, fino a Cagliari dove le collaborazioni sono tantissime e coinvolgono per esempio anche l'Archivio di Stato e tanti altri soggetti fuori margine, tutte storie e altre ancora. Quindi questa è un po' la prima caratteristica della dimensione regionale. La seconda che sono quasi tutte produzioni e coproduzioni o che nascono dai nostri progetti di cooperazione internazionale e abitano diversi spazi. Ecco adesso vi dico due, così sono i due progetti. Uno abbiamo chiamato Trattini, è una prima edizione ed è un po' la sintesi, nasce anche come gemmazione tutta la riflessione che è partita poco più di due anni fa intorno a un progetto che si chiama NEST 06, che è un progetto di formazione integrata per bambini 06 anni. Cioè siamo l'unico teatro forse al mondo che ha una scuola per l'infanzia. Da lì appunto per gemmazione è partita una riflessione su cosa significa anche produrre lavori per questa generazione. E curato da Valentina Salis c'è questo progetto che presenta spettacoli ma anche si apre a una riflessione ampia sulla pedagogia per queste generazioni 06, quasi ricominciamo da zero, ecco dall'età principale. L'altro è prototipi, il nome già dice molto, cioè sono cose sperimentali, cose prime e che nasce anche un po' per necessità, non abbiamo più uno spazio vero a Cagliari e quindi abitiamo tanti spazi all'aperto, al chiuso, spazi dedicati e non. Appunto useremo l'archivio di stato per esempio con un progetto emergente, un artista emergente e useremo tanti altri luoghi. La manifattura ovviamente che è un po' più diventata la nostra casa, ma anche appunto per esempio l'asilo nido che abbiamo, l'asilo nido, il centro integrato 06 con un progetto, e qui chiudo, interessante perché è un progetto di un artista cinese. Pensate alle nostre tradizioni, a quella dei cori sardi, pensatela raccontata, ridotta alla bellezza in un docufilm. Sono queste alcune delle immagini che faranno il giro del mondo raccontando quella radicata tradizione del canto corale di Nuoro. Per la prima volta in un docufilm dal titolo Nuoro, la città che incanta, vengono raccolte le storie, le evoluzioni, la passione del fenomeno coro, tanto a livello culturale che nel contesto sociale, soprattutto per il suo potere aggregante. A realizzare il progetto di raccolta di tanti filmati, sparsi nei diversi archivi, che ha richiesto un lavoro di due anni l'associazione culturale Turullia 60, sotto legida dell'ISRE, l'Istituto Superiore Regionale Etnografico. All'interno della pellicola viene raccontata la genesi di tanti gruppi corali, insieme alla storia di Nuoro degli ultimi 60 anni. Si va dal coro di Nuoro, il Barbagia, il coro di Amici del Folclore, l'Orto Bene, il Grazia dell'Edda, su Nugoresu, il Nugoro Amada, Canarios, Bendasse e su Redentore. L'obiettivo era quello di riunire in un'unica pellicola la storia dei cori e del loro profondo legame con il territorio, un documento storico che farà il giro di festival e associazioni di sardi nel mondo per trasmettere le immagini della nostra terra e la sua grande storia. Così il presidente dell'ISRE, Stefano Lavra, ha commentato. L'ISRE ha sposato l'idea progettuale, dando la propria adesione e collaborando per la realizzazione del docufilm. Il lavoro è infatti un'importante ricerca sul campo, con studio e documentazione sulla unicità della coralità nuorese. Mette insieme la storia e la vivacità culturale delle associazioni corali di Nuoro negli ultimi 60 anni, espressione autentica della coralità di ispirazione popolare del capoluogo, che ha dialogato e dialoga con la città, con le comunità sarde e a livello internazionale è apprezzata anche oltre il mare. Il progetto ha visto la collaborazione e la vicendarsi di tante professionalità nuoresi affinché potessero meglio cogliere il fenomeno coro, a cominciare dall'autore Pietro Pala, la regista Valeria Mori Polimene, il direttore della fotografia Luca Murru, coadivati già Gianfranco Liori alla produzione. Importante è stata la presenza di attori che hanno reso più fluido il racconto e naturalmente i protagonisti assoluti sono stati loro i cori. Bene, termino qua, vi do appuntamento alle prossime edizioni con il nostro magazine. Grazie. Grazie.